Nel cuore di Roma e al centro delle periferie esistenziali, domenica pomeriggio Papa Francesco si è recato in visita alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio, a due passi da Stazione Termini, la Basilica Minore, costruita dal fondatore dei Salesiani, Don Giovanni Bosco, è un luogo di accoglienza dove si intrecciano tante realtà, tante vite e tante richieste di aiuto. Il pontefice ha trascorso quasi quattro ore in questo porto di terra, ha incoraggiato i senza fissa dimora a non perdere la speranza, nemmeno quando la notte sembra più buia, ha sostenuto i rifugiati, un'ottantina scelti tra i 400 che ricevono aiuto e assistenza, ha confessato cinque penitenti. Con noi il parroco Don Valerio Baresi. C'è una grande conferma che il cammino che abbiamo iniziato è la strada giusta, il Papa ci ha proprio detto continuate, non arrendetevi, quindi si rende conto che ci sono difficoltà, non è così immediato riuscire a raccogliere questi giovani, metterli in contatto con i poveri, riuscire a fare dei percorsi formativi profondi, quindi ci sono le difficoltà. Però rimane marrà questa conferma, questo desiderio di incontrare sempre di più le persone in difficoltà e soprattutto di portare speranza, di fare tutto questo nel nome del Signore. Durante la messa Papa Francesco ha nuovamente parlato della misericordia del Signore, precisando che Gesù, il mite agnello, è venuto in mezzo a noi per portare la pace, soprattutto del cuore. E' buono avere questa fiducia umana fra di noi, ma dimentichiamo la fiducia nel Signore. Questa è la chiave del successo della vita, quella è una scommessa che dobbiamo fare, affidarci a Lui. E Lui mai delude, mai, eh? Mai. Abbiamo bisogno di misericordia. Il Papa insiste nel dire tutti abbiamo bisogno di misericordia, tutti siamo peccatori, tutti abbiamo problemi. Quindi non tanto per appiattire, ma per incoraggiare. E poi questo riconoscere che il Sacro Cuore proprio è centro di misericordia. Infine il Pontefice si è intrattenuto con i giovani della parrocchia, i quali ha chiesto di sporcarsi le mani, di essere in cammino senza cedere agli egoismi, alle delusioni, scommettendo sui grandi ideali. Un pomeriggio intenso, dunque, vissuto in un clima familiare e di intimità domestica. Mercedes della Torre è responsabile comunicazione della visita. In metà organizzativo abbiamo provato a fare tanti segni di focolare, come li abbiamo chiamato. Da mettere, da collocare nel presbiterio la Madonna della Virgen de Luján, che è la patrona dell'Argentina, che il Papa ha molto devozione. Però poi anche la canzone in spagnolo nella Messa, la preghiera dei fedeli in spagnolo. Però poi, dopo la Messa, c'è stato anche un bellissimo incontro di fraternità, in cui le hanno offerto il mate. E il Papa ha gradito molto.